Rischiamo, se non agiamo tutti con la massima attenzione e celerità, di passare tra le regioni arancio e poi rosse e far collassare il fragile sistema sanitario regionale per il parametro del tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva per pazienti Covid e il grido di allarme del capogruppo d'Italia Viva, Braia, che si rivolge al presidente Bardi. Vorremmo essere collaborativi, dice. Continuate però a non darci gli strumenti per farlo. Non basta l'appello alla responsabilità e collaborazione, ci vogliono gli atti conseguenti. Braia auspica che si rendano immediatamente disponibili le strutture dedicate Covid. Si reperisca personale medico e sanitario o anche dell'esercito per sostenere le attività di screening e quelle medico-sanitarie negli ospedali. Si potenzi la capacità di prelievo e processamento dei tamponi e si riforniscano le farmacie attrezzate di vaccini per la relativa somministrazione tempestiva ai richiedenti. Per il capogruppo d'Italia Viva, il governo regionale continua ad apparire agli occhi dell'opinione pubblica in eterno affanno ed emergenza. Il contagio, dice, non si deve rincorrere. Non possiamo non avere una visione d'insieme dello stato di fatto e degli interventi da effettuare negli scenari prevedibili.